Ma se no succede che c'era il pelle che fosse io, quindi uno chiedeva, gli antichi si trovavano, cazzo scendono, mi sono andato da qui a chiedersi, scendono, mangiando l'altezza, mangiando il bambino, ma per cosa vuole più piantere il pomodoro, il muociano, il pepe, io lì. C'è una soppella, una bomba. Ma come? Io cerco di prendere il sale e lì voglio. Ecco, vedo come succede di qua. Ma poi, in un ambiente distretto, la verità si sape. E così, sape chiaro, io dà solo spazioane, giusto? Ma io mi cemi anche, io stai giù, ci potevo vedere, Teresa, perché io non ho niente, giusto? E ora che fai sto lavoro di... Sì, poi stai giampendo tutto. Giovanni, per un giardino d'altore, io perché stai giampendo lì. Io, a dire, voglio, ho liberato il figlio, che il resto non mi sceglieva. Per un po' di Giovanni, che è rumestero, che è assomiglia a me. C'è un po' di Giovanni. Ma che non c'è gente, poi... C'è un po' di Giovanni che è nascendo l'insame, perciò sono più. Hanno preso l'abitudine del mondo? C'è un po' di Giovanni. Quando vai, la stai sciavolo, non fai. Non fai. Non fai. Non fai. E mi dicono che c'è un po' di Giovanni. Ma non è fuori. E' un tesoro da vincere. Con l'orologio svizzera? Una persona puntuale? Una persona, che dice... Per tutti, per tutti. E non sale. E qua c'è, vabbè, io la stai. E lui, io la stai. Come la stai? Non ho capito. Ma, io la stai. Un lato, vabbè, la stai. I quattro euro, i due euro. Ma poi ce l'aveva portato o no? C'è un capito. Ma se ne prendi un assai e ci fa questo abbono. Ah, ma... Quando su un assai... Esatto, esatto. Dico, perché gli rilascia questi spiccioli? Perché ci rilascia? C'è, dipende, insomma, da persone che dà partire. Ah, i clienti, i clienti. I clienti prendono il rumalacchio e le sale. Ah, ho capito. C'è questa forma di rispetto attualmente, attualmente. Depende. E chi lo chiede, non lo faccia. Ma certe volte basta queste carezze, queste cose, che la gente si sente rispettata e... E... E torna. Chiedo che c'era qui dentro, non lo faccia. Vabbè, a parte che non trattava più... La gente che faceva ieri... Che faceva ieri... Accordi... Ammottatevi con un musso. Come sono? A me... A me... Come ho bisogno, sono rispettato. Ecco, mania bella. Quelli che c'è. C'è, non c'è paio. Ma io avevo un sacco di impiegati, c'era, chissà, che ero per... Teresa, avevo un sacco di... Avevo un sacco di impiegati, c'era. Avevo tiste, impiegati, contabili... Sì, rispondo perché tutto... Facevo a lei per una bottiglia di medicinale cercato di poter stare in... Poter stare in... Poter stare in... Poter stare in... No, dipende che il medicinale pigia. Ah, se sono veleno, veleno... 605... È veleno. Cioè, è un testino che lo rilascia? Solo chiede che hanno la campagna, come? Sì, chiede che hanno la campagna. Passiamo a campagna... Cioè, deve essere classificato agricoltore? Sì. Io avevo bisogno che sono medicinale, un seccatore. O... 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 Certo, voi sono proprio una gente. Sì, chiede... Sono... Sono... È medicina... Come... Come vede in farmacia, va? Ci vuole la ricetta, va? Ma... La ricetta? Diccio... A me la prima volta la pigliata la consapevole. E c'è... E io ne ho scelto... 60 euro, lì. 60 euro, la patuta... 60 euro... E... Cosa è? Che... 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 No, appena stessaria sono capace di fare queste cose. No, non è giusto che non rischia per niente. Non è giusto che non si può fare un grande video di Danmark.